Sicuramente è una grande emozione far parte del Consiglio Comunale di Milano. Dal Ministero a Palazzo Marino è ritornare giovani o è un po' al passo del gambero? Né uno né l'altro, è un'esperienza, io ho imparato moltissimo in questi anni nei quali ho potuto lavorare a Milano come segretario regionale, per me faccio questa esperienza in Consiglio Comunale con umiltà ma anche con entusiasmo. Com'è stato questo ritorno in Consiglio Comunale? Mamma mia la partenza è stata deprimente, due ore su cavilli, regolamenti, articoli, commi e documenti non dati, penso che Milano si aspetti altro. La rivedremo ancora un paio di volte e poi basta? No perché solo un paio di volte? No no no, è un po' noioso. Ma inizieranno a portare un po' di ciccia in aula, si inizierà a parlare di questioni vere, quindi li aspetto al barco anche perché devono mantenere un sacco di promesse fatte in campagna elettorale. È stata un po' una noia però oggi? No, una noia no, diciamo che sono delle formalità che vanno esplicate. Quindi la incontreremo ancora qui per quanti mesi? Sì, fino alla fine della legislatura, probabilmente se poi sala durerà pochi mesi è tanto meglio. Arrivederci.